Bettineschi, Buario SD secondo classificato Claudio Zanoletti primo classificato, campione d'Italia per una manciata di metri davanti a Zanoletti Massimo Bellusconi, team Ecodiger la maglia nelle mani di Camillo Ciancetta la maglia di Camillo Ciancetta che la farà vestire ecco Massimo Bellusconi, esultare la gioia del corridore del team Ecodiger l'applauso Massimo Bellusconi, team Ecodiger l'applauso anche per Claudio Zanoletti terzo Natale Bettineschi, Buario SD invitiamo Massimo Bellusconi di attendere la conclusione di tutte le premiazioni di questo spicchio di pomeriggio per un colloquio con l'ufficio stampa in merito alla vittoria conquistata Alberto Bertucci e l'opuscolo dedicato al prodotto per eccellenza di Nemi le fragole anche sul palco anche Fabio Ottaviani, presidente del Bicicolo Racing Elena De Maio, presidente della Bicicolo Team New Limits Ornella, la nostra Miss con il podio, l'applauso per Massimo Bellusconi, Claudio Zanoletti, Natale Bettineschi signore e signori la vostra attenzione per l'inno nazionale d'Italia Massimo, scopri la medaglia perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.